Ciao a tutti, vi faccio vedere cosa sto mangiando qui nel centro di Kamakura, zona super turistica, guardate che piattone, tempura e udon freddi, con tofu, altre cose. Tutto questo, tutto questo, l'ho pagato 1050 yen, praticamente l'equivalente di circa 9 euro. E se ci pensate ad essere una zona turistica, un piattone del genere, acqua compresa, coperto compreso, 9 euro, è davvero fantastico. Ah scusatemi, vi faccio notare lo shiso con la tempura, cioè è un basilico giapponese si dice. Adesso vado a mangiare questo mega piattone per voi. Prima inizio con gli udon, che sono questi spaghetti che li ho scelti freddi. Mi piacciono di più freddi per la giornata che è oggi. Sì, favolosi. Davvero ottimi. Tempurina. Spostiamo gli udon, tempura, gambero. Un pezzettino da polo shiso, che sarà fantastico. Anche se il mio preferito è il renko, una radice di loto. E' anche calda, molto calda, buona. Poi non sono neanche sicuro che sia scisso questo. Guardandolo bene no. E anche sentendo il sapore no, quindi non è scisso questo. E' probabilmente un'alda. Un po' di riso che ci sta bene. Favoloso. Pranzetto, tempura, don, tendon. E udon. Da come ancora è tutto. Venite a visitare il mio sito www.marcodani.it E al prossimo video dal Giappone. Ciao, ciao.